Un incontro confronto davanti a decine di senza lavoro precari under 40 per dir loro che il vento sta cambiando, di avere fiducia nel governo pronto a puntare su nuovi strumenti e nuove modalità per far ripartire l'economia e creare opportunità di lavoro concrete per i giovani. Senza imprese che crescono e senza economia non ci sono posti di lavoro stabili, poi naturalmente bisogna fare come stiamo tentando di fare come governo, di attivare tutti gli strumenti come la garanzia giovani, come nuove modalità che consentono ai giovani di avere opportunità. Noi abbiamo bisogno di promuovere l'autoimprenditorialità, abbiamo bisogno di creare delle condizioni perché i giovani possano lavorare. L'incontro organizzato da Generazioni Lega Coppo Puglia si è svolto in un clima di confronto sereno accompagnato all'esterno dal sit-in pacifico messo in atto da un gruppo di ex LSU operai in crisi disoccupati e insegnanti aderenti ai Cobas. Un momento di confronto diretto dove il Ministro del Lavoro ha ribadito il dato positivo raggiunto nello scorso mese di maggio con il recupero di 52.000 posti di lavoro, ribadendo l'inadeguatezza degli incentivi a risolvere da soli il problema dell'occupazione. Gli incentivi non riescono di per sé a risolvere il problema dell'occupazione se non c'è appunto una dinamica di crescita dell'economia. Allora buongiorno a tutti, diamo intanto il nostro benvenuto al video.